frangia aspetta, con frangia aia ciao papà mi entusiasme dalle stelle perciò suonerò molteplici strumenti insieme noi staremmo lavorando capuano ma perché questa puntata sono neri? scusate, guardate è la terza storia che cerchiamo di fare è la terza storia 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 avevo una parola d'ordine che non è arrivata la terza storia è la terza storia è Giorgio sta mangiando un pancake al cioccolato è la terza storia 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 è la terza storia